Un uomo di 50 anni, presumibilmente straniero, è finito fuori strada questa sera in via Padre Semeria a Sanremo, perdendo il controllo del suo scooter e finendo su un piccolo beodo. Dopo aver sfondato la rete di sicurezza a bordo strada, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che potrebbe essere dovuto a malore, disattenzione o altro, l'uomo è finito nel piccolo canale. Utilizzato a scopo il riguo tirarlo fuori sono stati necessari i vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa mezz'ora imbrigliarlo e riportarlo indietro, insieme al personale medico del 118 ai militari di Sanremo soccorso verso l'ambulanza. Secondo le prime informazioni, l'uomo, che non aveva documenti con sé, versa in gravi condizioni. Sul posto anche gli agenti del commissariato e della polizia municipale.